le donne e le donne dietro ogni grande uomo c'è sempre una grande donna ed un uomo senza una donna non sarà mai felice come uno che ce l'ha gli uomini sono il sesso debole le donne sono il sesso forte la donna ha il potere di scelta la donna si lascia corteggiare solo da chi ha già scelto tra marito e moglie tra fidanzati tra due sconosciuti di sesso diverso sarà sempre la donna a scegliere e dettare le regole se un bell'uomo telefona a dieci donne diverse chiedendo loro di avere un rapporto sessuale in modo esplicito anche seppur bellissimo e attraente riceverà molto probabilmente dieci no ma se una bella donna fa la stessa cosa si ritroverà dieci uomini in fila a bussare alla sua porta con questo non voglio dire che un uomo non ha nessun potere e non può scegliere l'abilità dell'uomo dovrebbe essere quella di identificare le donne a lui interessate e scegliere tra esse bisogna imparare le regole del gioco e poi giocare meglio di chiunque altro